E' ricoverato in prognosi riservata al buon uomo di Andrea, l'uomo sbalzato fuori dal parabrezza della sua auto a seguito di un violento impatto avvenuto a Trani sulla SP12. All'origine dello scontro pare ci sia un sorpasso imprudente in concomitanza della manovra a sinistra di una seconda vettura in via Sant'Annibale Maria di Francia. La donna alla guida della Ford si apprestava a svoltare in via di Villa Friuli dando la precedenza a coloro che provenivano da Corato. Alle sue spalle erano incolonnati un tir ed altre auto. La Hyundai sarebbe partita in fase di sorpasso per oltrepassare i veicoli in coda ed è piombata sulla Ford disposta ormai trasversalmente sulla strada. Il conducente è stato sbalzato fuori dal parabrezza finendo a pochi metri dal muro di cinta di Villa Friuli. L'uomo ha riportato grevi traumi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale bonomo di Andrea dove è stata medicata anche la donna alla guida dell'altro veicolo praticamente a cartocciato. La provinciale 12 che collega Trania a Corato da anni è teatro di una serie di incidenti alcuni dei quali mortali. Lo scorso 20 febbraio nell'impatto che ha coinvolto quattro mezzi è morto un uomo di 40 anni. Sei invece sono stati feriti. Nella violenta carambola una delle automobili coinvolte è precipitata dal cavalcavia. Fu indispensabile anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nell'impatto. E' ancora il 29 dicembre all'altezza dello svincolo per Biceglie. Nello scontro rimasero coinvolte tre auto e persero la vita due conducenti, un 82enne di Trani ed un 37enne di Corato, padre di due bambini di 6 anni e 20 mesi ricoverati d'urgenza con la mamma. La famiglia stava rientrando a casa.